Grazie Presidente. Illustri Ministro, noi abbiamo presentato questa interrogazione per sapere, rispetto alle notizie di stampa che si susseguono senza una smentita, se l'agenzia AGI, una delle principali agenzie di informazione primaria del Paese di proprietà dell'ENI, quindi di proprietà pubblica, viene venduta. Ma soprattutto ci desta particolare allarme il fatto che ci siano 70 giornalisti che hanno dichiarato lo sciopero, che sono molto preoccupati e la seconda cosa, a nostro avviso, molto grave è che questa eventuale vendita sia fatta a un parlamentare di centrodestra del suo stesso partito, che è già di per sé editore ed ha una grande concentrazione dal punto di vista editoriale, cioè il contrario di quello che sostanzialmente ha deliberato l'Europa proprio qualche settimana fa nel Media Freedom Act. Allora le chiediamo con chiarezza, senza tecnicismi, senza giri di parole, di dire se l'indirizzo del Governo è quello di vendere l'AGI o di non venderla e se di venderla di darla a un parlamentare di centrodestra. Grazie.